Eccoci qui ragazzi sono Goldrake e come vedete ragazzi oggi siamo qui in un nuovissimo video Oggi ragazzi siamo in un nuovo LTS, questo LTS è Suini vs Sugoi, è un LTS che ho creato io ed è un LTS a due piani Quindi ragazzi spero veramente tanto che vi piaccia e adesso cerchiamo di prendere i nostri avversari Comunque ringrazio tutti quelli che sono entrati, raga l'avevo registrato anche ieri perché il video doveva uscire come al solito il martedì Ma ovviamente c'è stato un problema relativo a cosa, indovinate? A GTA, eh vabbè lo conosciamo bene no? Lo conosciamo bene il nostro GTA, dai vai giù, dai vai giù, non trolliamo troppo i nostri avversari, lasciamoli andare Chi se ne frega che tiriamo giù tutti, dopo ringrazio tutti, dopo ringrazio tutti con calma Ringrazio anche AntPaolo che in specifico oggi purtroppo non è riuscito a entrare, è crashato all'ultimo, raga Sapete come funzionano le cose qua? Oh mannaggia Lugozzi, andiamo su raga, andiamo su, vi faccio vedere Ovviamente essendo creato da me, occhio Bull, essendo creato da me raga vi faccio vedere come si svolge il secondo piano Guardate qua, che spettacolo! Spero che vi piaccia per giocarlo, link in descrizione ovviamente E adesso dove siete? C'è qualcuno, oh c'è il compa, ah un'altra cosa, è 100% anti cheat, quindi è inutile che cheatate, è inutile, è inutile, è inutile Ok, lascerei andare Lugozzi, che tanto non ci fa niente per ora Allora, però adesso dobbiamo prendere, vediamo se gli altri hanno capito come salire Oh, stanno facendo esplodere i fagiolini raga, che a quanto pare stanno causando un po' di problemi L'ho preso? No, e te pareva? Te pareva che non l'ho preso? Perché c'è uno con la macchina? Perché raga c'è uno con la macchina dei loro? No, brutta notizia, brutta notizia Dai Lugozzi esci eh, Lugozzi esci, su da bravo Gli altri hanno capito come salire, quindi buono, buono così Uh, via, 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 ok, eh vabbè l'han distrutto Però io vi prendo la kill adesso, vieni qua, vieni qua, oh oh oh, piano piano, non suicidarti, no 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 Nooo, no lo sapevo, lo sapevo, guardalo, guardalo come va lì sopra Eh raga è stato furbo, il nostro avversario è lì, ok, adesso dobbiamo fare qualcosa di intelligente Assolutamente intelligente Dato che è 100% anti cheat, dobbiamo trovare un modo per un... no, non ci credo, ho pure preso il mio compagno Io non ci voglio credere E adesso cosa possiamo fare? Comunque raga ringrazio Mgret, Andrea, Valkyrie, Lungo, Junior, Laurel, Magnifico, Zazmazerro, Ninja of Twice, Porkmoz 1994, Lugozzi, Porkitali, Matteo, Yasser, Stigallo e Bull, Mansuri Grazie mille a tutti raga per essere entrati veramente gentilissimi Come ho detto prima anche ad Paolo che non è riuscito a entrare E a questo punto qua cosa si può fare? Dovrei trovare un buon metodo, una buona strategia Allora forse, forse, forse si può fare una strategia Si può avere Che sarebbe tipo, esatto, come sta facendo Andrea Prendere un faggio E noi dovremmo incastrarci esattamente lì dentro E prendere la pistoletta Poi andiamo a fare un uno contro uno con Lugozzi Quindi adesso ci proviamo Ok, ok, perfetto Vedete che la Sugoi non mi tradisce La Sugoi bianca Adesso dobbiamo cercare Di prendere Una bella Pistoletta Una Un fagiolino Che loro erano pieni Eravamo in full lobby, mi sa Si, eravamo in full lobby Come non detto Adesso dobbiamo cercare di non Di non morire O riprendiamo la nostra Sugoi Oppure prendiamo un fagiolino Io a questo punto prenderei la Sugoi, no? Che dite? Ok, c'è qualcuno appunto su Lugozzi Ah, Lugozzi si è suicidato Perfetto Allora Andiamo a prendere Il nostro avversario Aspettate Aspettate che adesso La Volpe cerca di trollarlo Dato che abbiamo le pistolette Possiamo fare un uno contro uno Perché altrimenti ci uccidono subito Però dobbiamo prima trovarlo Dov'è? Sei ancora sotto Quanto cadi? Cadi e basta Oh, mamma mia Porfamoz 1994 Ok Andiamo, andiamo, andiamo Raga, andiamo Ditemi come vi sembra Questo LTS Scrivetemelo Sotto qua Nei commenti Inoltre raga Vi volevo davvero ringraziare Per il supporto Nella nuova serie Mi raccomando Supportatela ancora Soprattutto se non l'avete ancora vista Allora, ok Vediamo No, no, no Allora, raga Io rischio di essere ucciso Ma non mi interessa Sinceramente Perché il mio obiettivo È quello Di ucciderlo Allora, aspettate Non fa niente del rischio Ok Vai, vai, vai Va bene, va bene Se scende Oh Olè Ed era questo il mio obiettivo Vieni giù Vieni giù E lo riduciamo in poltiglia Dunque, round Vincitore Prossimo round Secondo round Ed ora ragazzi Abbiamo i nostri faggio Cerchiamo di andare Attenzione Attenzione Uh, piano, piano, piano Senza andare troppo di fretta Non abbiamo fretta Non c'è nessuna fretta Allora, occhio qua Allora, occhio qua Occhio qua Perché siamo un po' Trollati Leggermente Allora, aspettate un attimo Che io cerco di Niente Non cerco niente Perché è veramente tosta Ok, raga Mannaggia un gret Che mi fa Gestacci Allora, io andrei per primo Vai, vai Uh, ci stanno No, no, no Ci stanno aspettando Aspettate un attimo Beh, raga Qualcuno che lo butta giù Oh, oh, oh Piano, eh Piano Per favore Raga, qualcuno che butti giù Il nostro avversario Ok, grazie Gentilissimo Gentili Veramente molto gentile Non ho visto chi fosse Non ho proprio Visto chi fosse Ma ce l'ha buttato giù E ci fa un enorme piacere Perché altrimenti Facevamo veramente Tanta Ma tanta fatica Allora, la pistoletta Ce l'ho E, eh Sono molto Felice Ecco, appunto Eh Non abbiamo più il faggio Invece sì Invece no Dove siamo? Ok Eh Perfetto Raga, io non sto capendo più niente Ole Ok, via, 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 via Oh Dove sono? Va bene, va bene Eh, non lo so Non lo so dove sono Via, 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 via Vedo un fagiolino Vedo gente sopra Occhio la volpe Occhio la volpe Che stravolta vi frega tutti Raga Mamma mia La furbizia L'astuzia Della volpe Che adesso Vi frega Raga Vi frega E vola le armi Allora Aspettate che Dobbiamo correre Ora è arrivato il momento Di correre Allora Gente sopra Ce ne abbiamo Quindi Ormai Sanno tutti Come salire E il problema Non se lo pone Più nessuno Il problema Ora è passare da qua Perché Abbiamo uno Che si è tuffato L'altro che Mi aspetta Vai, 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 vai Ok Perfetto Siamo all'interno Con un gallo Un saluto al gallo Innanzitutto Saluto al gallo Che ci segue da casa Ecco qua Il suo completino Ma il problema È adesso uscire Chi esce? Io Non uscirei Io resterei qua No, 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 no Non sprechiamo Ok Va lui Va lui Va lui Occhio Uno, due E Tre Perfetto Vado io Vado io Vado io Vado io Vado io Ok No Oh Sì Non lo Zitti Zitti Piano 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 Via Epica 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 Quello che sta succedendo qui Quello che sta succedendo in questo LTS Non lo so Non lo so ragazzi Zitti tutti E guardate qua 100% Anti cheat Only volpi Only volpi E via E via E si va Si va alle armi Il nostro obiettivo Completato E adesso vi faccio vedere qua Che belle armette ci sono No bull Perché ti suicidi Hai paura della volpe E se arriva la volpe A giustiziarvi tutti Mannaggia a voi Aspettate 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 la volpe Che ci pensa lei Raga Con un miracolo Siamo arrivati alle armi Veramente Scaricatelo Raga Ve lo lascio bello Che in descrizione Come ho detto prima Mi raccomando E poi fatemi sapere Come mi sembra A me Sembra spettacolare Due piani Una cosa che non ho mai visto Quindi Oh oh Che torna giù Eh la volpe Vuole tornare giù Non ho capito Non ho capito Che intenzioni ha oggi La volpe Però vai vai Andiamo Comunque raga Devo chiedere scusa A tutti quelli che c'erano Anche ieri Che erano entrati E Non sono riuscito A registrare Comunque abbiamo anche Un Matteo E l'abbiamo ucciso Un Stigallo E l'abbiamo ucciso E adesso manca ancora qualcuno Che vuole fare il furbo Però Ci sono i più furbi Qui eh Occhio raga Dove siete? Oh Porc Come stai Porc Vieni Vabbè dai Ariamo il povero Porc Italy Con dispiacere Ma lo dobbiamo arare E adesso l'ultimo Dov'è? Aspettate Aspettate L'ultimo Eccolo qui Eccolo qua Eccolo qua Pensavo fosse sotto E invece no Oh piano piano Ragazzi Io mi faccio fregare La vittoria In questo modo Divento Divento la volpe Più scarsa Del west Quindi Allora Andiamo L'abbiamo preso Al volo Addirittura Mamma mia Che volpone Partita Vincitore Riavviamo ragazzi Un altro Solo round Ok ragazzi Abbiamo riavviato L'LTS Un solo round E abbiamo I nostri faggio Incredibile Incredibile Abbiamo in faggio La cosa migliore Che potevamo avere E adesso io vado Velocissimo Fino a qua Ok Qua c'è un signore Buonasera Buonasera Anzi buongiorno Buongiorno Perché questo video Esce alle A mezz No chi è Picchiazzurro Bella picchiazzurro Che tra l'altro Appena è entrato Però io direi Che è l'ora Di andare giù Picchiazzurro Raga Buttatelo giù Buttatelo giù Che tanto noi Non usciamo Bravo Bravo Ungrat Vai ungrat Tu lo sai Tu lo sai Quello che devi fare Vai vai Buttatelo giù Raga picchiazzurro Mannaggia lui Guarda tutti qua pronti Sulla partenza Sulla Griglia di partenza Guarda qua Motori raga Via i motori E adesso aspettiamo Raga aspettiamo Questione di tempo O esce uno di noi O ce lo buttano giù Olè Grandissimi No Inamovibile Inamovibile raga Inamovibile Oh è uscito E si è messo lì in mezzo Mannaggia lui Dai guardate che sfortuna Raga Mamma mia Crasciato proprio in quel momento In cui lui Non doveva crashare E vi pareva Che si andava a mettere Proprio qua Ma noi Lo super No 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 Via 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 Piano 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 Ok abbiamo Gente Oh piano Oh piano Allora sapete che Oh ungrat È uscito Allora aspettate Sapete che vi dico Che qua è meglio uscire Vai 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 Porca vai porca No 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 Non ci provare Non ci provare Ok vai 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 Ok Oh vai 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 No Si sono vi No no Sta succedendo di tutto raga Io non lo so eh Io non lo so cosa sta succedendo Ma in questo LTS Sto succedendo di tutto e di più Io me ne vado Scusate per l'interruzione raga Ok ci siamo Si ci siamo Vai 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 Io scappo 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 Scappa 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 Con pane alba Oh via 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 Altro che pane alba Qua stiamo attenti Mamma mia Quando seguono Le auto così Mi fanno un botto di paura Via 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 Che non ci prende Ci vede solo col binocolo E adesso io faccio la finta di uscire Vai vieni 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 Esci bravo bravo E vai giù Vai giù Oh Oh Vieni 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 Oh no no Lo sento Ok Ok lo sentivo raga Lo sent Vivo Un gret Dove vuoi andare Un gret Ok vieni vieni Un gret Vai 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 Andiamo 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 Ok Piano Eh guardate lì Se andavo in quel momento Venivo distrutto E Bull è arrivato alle armi Eh gg Stavolta non mi faccio le kill Perché Bull mi ha anticipato Ma va bene lo stesso Va bene lo stesso raga Guardate qua Spettacolo Spettacolo l'anticit Però bravo Bull Bravo Bull che mi ha anticipato Adesso uccide tutti Si fa Oh Ma c'è qualcuno Ah no no È sotto è sotto Ok Mi sono un attimo Spaventato raga Pensavo fosse dietro di me Invece no E allora vai Andiamo Sali 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 Dov'è Bull Oh Bull Vieni qua Oh Bull Dove sei Ok aspettate Un attimo che Troviamo qualcuno Stanno uccidendo anche Qualche mio compagno Non so come è possibile Un gret Ha ucciso un mio compagno Probabilmente Che stava facendo L'LTS E Bull No come Bull Si è suicidato Allora Facciamo No no È ancora È ancora Vuole andare giù Vuole andare giù la volpe Mamma mia Mannaggia la volpe Mannaggia lei Allora ok Adesso manca solo uno Che è il nostro Ah il nostro un gret Il nostro Zam Z Masterro Non so dirlo bene Non so dirlo molto Bene Eccolo qua Ecco Oh Oh Come ti permetti Mamma mia Mamma mia Come è possibile Che c'era la La cosa La Come si chiama Raga L'ha oppresso MK2 In quel punto Perché era lì Allora Bull Era Era sceso Sapete che no Lo so raga E adesso un gret È nascosto al radar Un gret Nessuna traccia Ok ragazzi Vi faccio vedere Se abbiamo qualche arma Come poter Uccidere Un gret Allora se non faccio un fail Perché Ok Perfetto Allora raga Praticamente Dovrebbe essere Buggato sotto Quindi Il nostro obiettivo Fammi vedere se ho delle armi Ok Va bene Dovrebbero bastare Il nostro obiettivo È ucciderlo E Dobbiamo buttarci Qua guardate Qua Dobbiamo farlo Buggare qui Per andare a prenderlo È l'unica Vediamo se funge Ole E adesso è andato Allora dove sei Mgret Eccolo qua Vedete Vedete Mamma mia Guardalo dove si era infiltrato Io lo sapevo È qua È qua È qua dentro È qua dentro Adesso lo trolliamo Vieni qua Mgret Dove scappi Dove scappi Mgret Col vestito Col completo Della volpe Vieni qui Vieni qui Mgret Senza paura Senza paura Mgret Vieni Vieni Avvicinati Avvicinati E via Ok No 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 Occhio Ole Ragazzi ho avuto un po' paura Perché potevo anche mancarlo L'abbiamo distrutto Dunque vincitore Per la seconda volta Ragazzi io spero Che il mio LTS Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un like Iscrivetevi Se non vi siete ancora iscritti Attivate la campanellina E noi ci vediamo Al prossimo video Bella Chau 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 Chau